Buongiorno a tutti, buon mercoledì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video vediamo quali saranno gli arretrati in arrivo il prossimo mese per via della mancata rivalutazione IRPEF a molti pensionati. Marzo 2024 infatti è stato il mese in cui è arrivata a grande sorpresa la nuova IRPEF con i tre scaglioni anziché i quattro originari, più relativi arretrati di gennaio e febbraio ma sono diversi i pensionati a non averla ancora ricevuta. Dunque nel mese di aprile arriveranno gli arretrati e naturalmente anche l'IRPEF. Vediamo dunque a quanto ammontano gli arretrati nel video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace nel video per continuare a supportarci. Grazie. Partiamo subito con gli esempi ovviamente come detto più volte al di sotto della soglia dei 15.000 euro lordi annui non ci sarà beneficio della nuova IRPEF. Si parte dunque ad avere benefici se così si possono chiamarli dalla cifra dei 1.200 euro lordi con un aumento di un euro mensile. Quindi dato che gli arretrati spettanti corrispondono a gennaio febbraio e marzo perché ovviamente non li ha ricevuti a marzo saranno di 3 euro. Per le pensioni invece da 1.400 euro gli arretrati saranno di 15 euro in quanto l'aumento mensile è di 5 euro. Le pensioni da 1.600 euro invece che aumentano di 10 euro al mese vedranno corrispondersi a marzo 30 euro di arretrati. Le pensioni da 1.800 euro riceveranno un aumento mensile pari a 13 euro quindi avranno arretrati pari a 39 euro. Passiamo poi alle pensioni da 2.000 euro con gli arretrati che corrisponderanno a 51 euro ovvero 17 euro per mese. Infine le pensioni da 2.350 euro ovvero quelle che raggiungono la soglia massima di beneficio IRPEF avranno un aumento mensile di 20 euro e quindi gli arretrati saranno pari alla cifra di 60 euro. Questo dunque quanto aspettarci il prossimo mese e ribadisco ovviamente per chi non ha ancora ricevuto gli arretrati. Per tutti gli altri pensionati invece continueranno normalmente gli aumenti IRPEF già visti senza arretrati.